Ups a tutti, 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 miei cari Upsini Upsine, come state? Come, come, come state? Spero bene, dai. Quindi oggi sono qui, qui, solo per voi, per fare un video molto semplice, ma secondo me anche molto carino. Non lo so, vedremo. Praticamente oggi ho selezionato alcuni trigger che vorrei mixare. Quindi due trigger che magari riesco a unire per fare un trigger diverso. Non lo so, proviamo, è un'esperienza che possiamo provare insieme. Quindi indossa un paio di cuffie auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene. Ok. Ok. Cominciamo dai. Per farvi capire che cosa intendo, posso partire da un esempio molto 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 semplice, che ho voluto inserire, appunto, come esempio. Allora, qua in basso ho una bottiglietta d'acqua e quindi noi sentiamo il suono dell'acqua. Ok, la metto via perché è ingombrante, però noi quindi abbiamo sentito il suono dell'acqua. Ma cosa succede se l'acqua, per esempio, incontra il vetro e quindi fanno un suono mixato, sono insieme. bene. Ho preso qui questo parattolino e appunto possiamo vedere... che, 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 che! Capite? Quindi questo è l'esempio, secondo me, che conoscono tutti perché è il più semplice ed il più famoso. Ok, questo era, come dire, il meno particolare, quindi lo metto via. Era per farvi capire un esempio, insomma. Adesso, invece, ci sono dei trigger che magari ho già portato sul canale, magari no, come per esempio questo qui. È un po' particolare e devo provare a vedere se funziona. Allora, come potrete sentire, ho qui una bottiglia di vetro vuota. Allora, proviamo a farci qualche suono. Allora, stare il fatto che questo trigger, ovvero questa bottiglia, la voglio, come dire, è mixare con quest'altro trigger. Allora, questo qui, che vi faccio vedere adesso, è praticamente un potporee ed è, se non sbaglio, un insieme di fiori essiccati e altre cose essiccate. E che cosa vorrei fare? Vorrei prendere alcuni di questi fiori essiccati e inserirli nella bottiglia per mixarli, appunto. Ma prima di farlo volevo farvi sentire il suono di queste due cosette, che non ho ne ho idea di cosa siano, ma che erano nel poporee. Stupende. Stupende. Non ho ne ho idea di cosa siano, ma stupende. E ovviamente questi fiori profumano. buoni, buoni, buoni. Stupende. Non c'è niente da dire. Quindi io direi, proviamo a inserirli. Alcuni sono troppo grandi. Proviamo a inserire questa boiolina. Proviamo a inserire questa boiolina. Questo qui. Già così possiamo sentirmi. Già così possiamo sentirmi. Già così possiamo sentirmi. E quindi in poche parole sentiamo un pochino di questi suoni. che sbattono, questi fiorellini diciamo che sbattono sulla bottiglia di vetro. Non lo so. Era particolare. Mai quanto queste due palline che mi hanno sconvolto la vita. Troppo belle. Adesso il prossimo trigger. È un trigger che in realtà secondo me è un po' difficile da mixare. E devo vedere come fare. Ho qui due picchierini trasparenti di plastica. non le altitudini diretti di plastica. Ho qui utenti di plastica. Lei che è un LED. Non le altitudine la nomina. No, non le altitudini non le altitudini. No, non le altitudini, ma le adondamenti nella pipì. No. No, ne altitudini, ma le nuove richieste. Ma leur perché mamma bella. No spoon con queste due palline forme kabiso basi, ma la rEP. la amo, cioè la adoro troppo e praticamente volevo fare un po' di tapping insieme alla pallina oppure devo provare a far interagire non so bene come farli interagire, quindi mi sa che farò da un orecchio questo tapping e dall'altro la pallina cambio ok 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 ok, sono tornato da voi spero che vada tutto bene, che sia tutto a fuoco, tutto normale come vedete in realtà ci sono normali trigger che secondo me però potrebbero avere anche del potenziale insieme ecco adesso prossimo trigger direi un classico secondo me questi trigger insieme si sono già fatti in particolare ho però questo scovolino non saprei come definirlo per fare un po' di mouth sounds non vi preoccupate l'ho lavato prima e il pennello per fare un po' di visual trigger e quindi proverò a mischiare queste due cose però questo è già un trigger che era conosciuto ecco meno meno sperimentale rispetto agli altri ecco 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 Ok, aiuto. Un ultimo trigger che ho preparato per voi oggi è, allora, dello scratching. Io, che solitamente non porto dello scratching, ho ritrovato questo, non saprei neanche come definirlo, cioè è un puff, secondo me, o per lavare i pennelli, o per lavare le spugnette, perché non può essere un puff per la faccia, perché è ruvido. Questo qui, rosso, è proprio a tema con lo sfondo. Dall'altro lato. Ok, che voglio mixare con il suono di questa lima brunia. Sì, sì, sì. Vediamo cosa esce, ma secondo me è qualcosa di stupendo. Bellino, no? Cioè, a me piace un po'. Credite. Secondo me può essere qualcosa di carino, ecco. Secondo me ha del potenziale, intanto ho, tipo, che schifo. Tutte le robette della lima o del coso rosso hanno lasciato un po' di pane tutti in giro. Vabbè, intanto, prima di salutarvi, volevo dire che attualmente, per chi se lo stesse chiedendo, sono le 3 e 17, secondo me si vede, di domenica 17 settembre. Allora... E sì, questo è, dai, è nulla. Cucu. 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 Buon amante.